O che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salvò. Inno 453 O che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salvò. Quando mi grazia la vita mi chiede, nel mio cuore trovo. E' lontano e senza il Signore, ora sono salvo per te. Vida e verta e gioia superna, che vada il Signore per te. Solo Gesù può darti pace al cuore, solo Gesù che ci portò l'amor. L'amor che passerà, e salvezza divarà. Quando Gesù ha cercato il mio cuore, un nuovo cuore mi chiede, il Signore. O che beato quel giorno per me, non sono più schiavo del mar del vero. Mi liberò il mio re. Quando ai suoi piedi mi chiede il vento, il suo l'amor mi mostrò. Io rispando il mio cuore, il mio cuore mi chiede, il mio cuore mi chiede, il mio cuore. Solo Gesù può darti pace al cuore, solo Gesù che ci portò l'amor. La morte passerà, e salvezza divarà. Quando Gesù ha cercato il mio cuore, un cuore mi chiede, il mio cuore mi chiede, il mio cuore mi chiede. La morte passerà, e salvezza divarà. Io rispando il mio cuore, un cuore mi chiede, il mio cuore mi chiede, il mio cuore mi chiede. Gesù direò, solo Gesù vorrà che pace al cuore, solo Gesù che ci porto un amore, l'amore che passerà e travezza divarà, quando Gesù accerti nel tuo cuore. Vogliamo ora rivolgerci alla parola di Dio e leggere nel libro del profeta Isaia, capitolo 21, soltanto due versi. Libro del profeta Isaia, capitolo 21, dal verso 11. Gloria al Signore! Mi si grida da Seir, Sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? La Sentinella risponde, viene la mattina e viene anche la notte. Se volete interrogare, interrogate pure. Tornate un'altra volta. Il nostro testo ci riporta al tempo quando le città erano intorniate da mura poderose, sulle quali si elevavano delle torri, dove di notte soprattutto vegliavano delle sentinelle che in ogni momento potevano avvisare del pericolo. Qui è lo stesso profeta Isaia, che è la sentinella al quale è fatta la domanda e che dà la risposta. In questo caso, la parola profetica della Bibbia, la parola di Dio, risponde all'urgente interrogativo che, come in tutta la letteratura biblica, è ripetuto due volte per esprimere tutta l'importanza della richiesta. Sentinella, a che punto è la notte? Cioè, in quale ora viviamo? A che ora siamo giunti? Voi sapete che anticamente le sentinelle dovevano smontare ad una certa ora della notte e si chiede che ora è? In quale ora viviamo? Consideriamo, prima di tutto, questa domanda. È una domanda insistente. Sembrano dire con questa parola quanto tempo dureranno ancora queste tenebre. Quando verrà il giorno? E a me sembra che la scrittura qui si riferisca non a tenebre fisiche, ma a tenebre spirituali e morali. Quali sono le caratteristiche di queste tenebre? Leggendo tutto il capitolo scopriamo che ci sono dei tre messaggi, uno contro Babilonia, uno contro Duma e un altro contro la rabbia. Sono tre profezie e tutti noi sappiamo che Babilonia significa caos, significa confusione, Duma significa tensione. Arrabbia significa sospetto. E a me sembra che le tenebre di questo mondo, la notte nel quale il mondo viveva allora e vive ancora oggi e vive sempre ad ogni punto della storia, quando la civiltà è decadente soprattutto, e le tenebre sono caratterizzate prima di tutto dalla confusione, dal caos, caos a tutti i livelli, caos a livello spirituale, caos a livello morale, caos a livello sociale, perché no? No, caos a livello religioso, caos a livello anche politico, confusione. Il mondo è disorientato da questa confusione. Ma non solo queste tenebre sono tenebre di caos, ma sono tenebre di tensione. Quanta tensione nell'ambito della famiglia, nell'ambito delle città, nell'ambito delle nazioni, nell'ambito del mondo. Noi ci troviamo a continui dissidi, conflitti, tensioni a tutti i livelli, dissidi e tensioni e incomprensioni tra le varie generazioni, dissidi, incomprensioni e tensioni i vari sessi, dissidi, tensioni e incomprensioni per ragioni di lavoro, tensioni di carattere razziali, tensioni di carattere tribali, tensioni di carattere nazionalistiche, tensioni di carattere religiose. E queste tenebre sono anche tenebre di sospetto. Viviamo in un mondo di sospetti, di totale sfiducia e diffidenza l'uno dell'altro. Sentinella, a che punto è la notte? È la domanda. Sentinella, quand'è che finirà questa notte di confusione, questa notte di tensione, questa notte di sospetto, questa notte di sfiducia, questa notte di conflitto, di diffidenza? Quando è? Ma c'è anche la risposta. Perché sapete, fratelli, sorelle, amici, la parola di Dio non solo elenca le domande dell'uomo, ma dà anche le risposte. Gloria sia al nome di Dio. La risposta della sentinella non tarda a venire. La Sacra Scrittura è una sentinella sempre vera che rimane non solo nel tempo, ma non rimane muta agli interrogativi degli uomini. La risposta è precisa, è inequivocabile. Viene la mattina e viene anche la notte. La risposta è come Dio la presenta sempre positiva e negativa. Perché l'enigma del futuro è non nelle mani di Dio, ma nelle mani degli uomini, il futuro di ciascuno di noi. La risposta può essere positiva o può essere negativa. Viene il mattino di luce, ma segue anche la notte d'oscurità. E in questo continuo susseguirsi di giorno e di notte, di luce e di tenebre, ognuno di noi deve scegliere se vuole vivere nella luce o vuole vivere nelle tenebre. In questo continuo chiaroscuro dell'esistenza, noi dobbiamo decidere se accettare il mattino di speranza, quando le ombre scompaiono e il nostro nemico può essere individuato a distanza e possiamo liberarcene, oppure se, invece, continuare a subire l'oscurità della confusione, del caos, della tensione e del sospetto. C'è il mattino glorioso e risplendente della grazia di Dio in Cristo. C'è il mattino glorioso della liberazione dalla confusione, dalla tensione, dal sospetto. C'è il mattino meraviglioso di una vita trasformata dalla potenza di Dio, che dà purezza, che dà perdono, che dà pace. Il mattino che ci viene rivelato da colui che è la stella brillante e mattutina, Gesù, che è venuto per rivelarci il grande mattino eterno di Dio, quel mattino di profonda comunione con Dio, la certezza della sua vicinanza e la benedizione della sua presenza. Ma, purtroppo, c'è anche la notte, quando il giorno dell'opportunità fugge, quando gli uomini scelgono le tenebre invece che la luce, e allora tornano le tenebre della sofferenza, le tenebre della calamità, per quelli che non accettano il giorno della grazia. E, purtroppo, quando gli increduli, se continueranno a vivere nelle tenebre, saranno puniti d'eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Ma non c'è qui, nel nostro testo, solo una domanda sentinella a che punto è la notte, e non c'è solo una risposta, viene la mattina e viene la notte, ma con la risposta è presentata anche la soluzione. L'interrogativo che la gente fa non deve essere per mera curiosità, ma è un interrogativo che ci spinge verso la soluzione che Dio ha stabilito. Perché il piano di Dio è quello di aiutare, di vincere l'incredulità, di vincere l'indifferenza, di liberare dalla confusione, di liberare dalle tensioni, di liberare dai sospetti e dalla diffidenza. Se volete interrogare, interrogate pure, tornate un'altra volta. Il nostro testo, così come è presentato qui, sembrerebbe dire, se volete sapere di più, venite ancora. Ma riguardando il testo originale e ricordandoci anche nelle altre versioni, Dio Dati traduce, se volete interrogare, interrogate pure, ma ritornate, venite, oppure tornate a me di nuovo. Gloria al Signore. Lo scopo di Dio non è solo di darci una spiegazione di quello che sarà il futuro, lo scopo di Dio è qualcosa di più. Troppa gente nel mondo e anche nel nostro paese vuole curiosare nel futuro e si rivolge alla magia, e si rivolge alle varie arti strane per sapere qualcosa del loro futuro. Quando la parola di Dio mette dinanzi a noi il futuro dell'uomo con una chiarezza evidente, non c'è bisogno di consultare maghi, non c'è bisogno di consultare oroscopi. La parola di Dio è precisa. Il Signore dice chiaramente che viene il giorno e viene anche la notte. E se vogliamo essere figlioli di giorno e liberarci da tutti i nostri sospetti, dalla confusione e dalle tensioni, egli è venuto in Cristo Gesù, il Divino Salvatore, che ha detto venite a me voi tutti che siete stanchi e carichi e io vi darò riposo. Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi. Venite a me voi tutti che siete delusi ed afflitti. Venite a me voi tutti che siete travagliati. E io vi darò riposo. Non c'è riposo quando c'è terrore, quando c'è paura. Non c'è riposo quando c'è tensione. Non c'è riposo quando uno è confuso. Non c'è riposo quando c'è delusione. Il riposo viene quando uno può serenamente adagiarsi in un posto sicuro. E non c'è un luogo più sicuro che le braccia del nostro Signore. A Lui sia la gloria. E' sempre Isaia che dice al suo popolo antico, questo dice l'Eterno, venite, discutiamo insieme. E se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, essi diventeranno bianchi come la neve. Venite, discutiamo insieme. E allora voi scoprirete la differenza che c'è fra chi serve Dio e non lo serve. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Discutiamo insieme. O benedetto Signore, che non solo ascolta i nostri interrogativi, non solo ci dà la risposta, ma viene a noi per dire ragioniamo, esprimiti con me ed esprimiti liberamente. E io opererò per te. Un altro verso famoso, che è un invito, tornate, ritornate, venite, è voi tutti che siete assetati, venite alle acque. L'invito di Gesù è un invito prezioso. E noi in quest'ora siamo grati a Dio. Perché un giorno abbiamo anche noi detto a che punto è la nostra giornata, a che punto è la nostra vita. Questa notte è così terribile, vorremmo il giorno, vorremmo la luce, vorremmo la pace, vorremmo la gioia. E il Signore ci ha detto c'è il mattino, c'è la gioia, c'è la pace, basta che tornate e venite a me. E l'invito che stasera la parola di Dio ci rivolge come una sentinella che è pronta a ricordarci sempre la realtà della nostra esistenza è venite, tornate e io vi accoglierò. Che faremo, fratelli, sorelle, amici? La nostra condizione può essere difficile. Possiamo trovarci in un travaglio ed in una lotta molto dura ma il Signore è la nostra vittoria. Se andiamo a Lui, se li interroghiamo, se torniamo a Lui e ascoltiamo la Sua parola, noi riceveremo riposo. impareremo da Colui che è il Signore della Gloria, il nostro Salvatore e scopriremo che la vita nostra sarà sempre mattina. È mattina, è mattina nel mio cuore, cantiamo spesso. Sì, perché la luce del Signore ha illuminato le nostre tenebre e non siamo più nelle tenebre ma siamo nella luce e come figlioli di luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e insieme l'abbiamo con Dio e il sangue di Gesù Cristo e il suo figliolo ci purifica di ogni peccato. È un invito stasera in un mondo così triste, in un mondo così travagliato, in un mondo così deluso e disorientato, noi possiamo godere la pace di Dio e scoprire che Dio è fedele, Gesù è una realtà, Gesù non è lontano, Dio non è lontano, egli risponde ancora, interrogalo e lui ti risponderà e ti rivelerà il segreto della vera felicità chiamiamo i nostri capi in preghiera. Signore, noi ti ringraziamo perché tu non ci hai lasciato senza la tua parola, ti ringraziamo perché tu sei quello che rispondi ai nostri interrogativi e anche in quest'ora hai risposto all'interrogativo di ciascuno di noi. Forse tra noi c'è qualcuno confuso, in tensione, con dei contrasti intimi, familiari, che si trova in grosse difficoltà, qualcuno che ha bisogno della tua pace, del tuo sostegno, della tua forza. E in questo momento, mentre questa persona si accosta a te, ricevilo, Signore, onora la tua parola, tu hai detto tornate, venite, noi veniamo a te, torniamo a te, perché vogliamo che trasformi le nostre tenebre in luce, i nostri problemi in soluzione. Signore, liberaci dalla confusione, liberaci dalle tensioni, liberaci da tutti i sospetti e le delusioni, dacci la vera pace che viene da te e non solo a noi, Signore, ma stabilisci la tua pace nel mondo, perché tutti possano riconoscere Gesù, il Principe della pace e nel suo nome che noi ti ringraziamo in Lui, benedetti in eterno. Amen. vogliamo alzarci tutti in piedi e ringraziare il Signore, qualcuno ci guidi in preghiera, qualcuno che viene avanti al microfono per pregare, fratello, dove è? Caruso, vieni avanti, prega qui per favore, grazie. Gloria a Dio, siamo figuoli di luce, vero? e noi vogliamo notare il Signore per questo. Gloria al Tuo nome, Signore, con tutto il nostro cuore che noi in questa sera veniamo a Te per renderti la gloria, l'onore, la magnificenza, la nostra gratitudine, Signore, per il Tuo grande ed immenso amore, amore che ci ha convinti, Signore, o noi Ti ringraziamo perché Tu ha manifestato il Tuo grande ed immenso amore attraverso Cristo Gesù, il Tuo figliuolo, che è morto per ciascuno di noi, attraverso il Suo sacrificio noi siamo stati perdonati, vivificati, salvati. noi Ti ringraziamo per la Tua santa parola che hai mandato ai nostri cuori in questa sera. Anche noi eravamo confusi, Signore, eravamo tesi, eravamo disperati, eravamo senza speranza. Oh, Signore, attraverso Cristo Gesù, il Tuo figliuolo, hai messo in noi la certezza della vita eterna. Noi un giorno di questi Ti vedremo a faccia a faccia, Signore, e Ti godremo per tutta l'eternità. Vogliamo pregarti ancora per quanti altri non Ti conoscono, per quanti sono nella confusione, nel terrore, nella paura, nella disperazione, nelle tenebre. Padre, nel nome di Cristo e del Tuo figliuolo, in questa sera voglia Tu illuminarli attraverso il Tuo santo spirito, Signore, affinché ogni creatura possa realizzare in Cristo Gesù la via, la verità e la vita, la luce del mondo. Noi Ti ringraziamo per Cristo, il Tuo figliuolo, Signore, che noi vogliamo benedire ora in Eterno. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo concludere cantando alla gloria del Signore l'inno 21. Inno 21. Gloria a Dio. La bandiera del Signore castigone in alzante, in la cara del rumore con la sangre da luna. Alza, alza la bandiera, las traescas de morar, che è la cara del Tuo cuore, con la sangre da luna. E se Cristo salvatore, la vita volerà, è l'insegna dell'amore che in Eterno lo vedrà. Alza, alza la bandiera, lascia e sospettorà, che è la cara del Tuo cuore, con la sangre da luna. Alza, alza la bandiera, che è la cara del Tuo cuore, che è la cara del Tuo cuore, con la sangre da luna. che è la cara del Tuo cuore, con la sangre da luna. che è la cara del Tuo cuore, con la sangre da luna. che è la cara del Tuo cuore, con la sangre da luna. che è la cara del Tuo cuore, Non lasciate l'aiubare E c'è Cristo Santatore La divina volontà Piede l'amore E l'eterno Tu vediamo insieme Sanza la pietra La stradezza svindolata E la cara del tuo cuore Non lasciate l'aiubare E Dio ci aiuti a levare in alto il vessillo di Cristo E il vessillo dell'Evangelo A Lui sia la gloria Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo L'amore di Dio il Padre La comunione e le compassioni dello Spirito Santo Siano con noi e con tutto il suo popolo E l'amore di Dio E l'amore di Dio E l'amore di Dio